Di quant'è la tua posizione corta al momento? È di un miliardo e tre. La paghiamo in grosso modo dagli 80 ai 90 milioni l'anno. Posso essermi mosso troppo presto, ma non mi sbaglio. Presto e sbaglio! Di 555 milioni? Tra sei anni esatti saranno belli candati. No, 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 nel secondo trimestre del 2007 scatteranno i tassi variabili e i default aumenteranno. Già.